Ah, che bellezza! Non è solo italiano, stanno irrigando il campo e sto prendendo un po' di frescura. Ah, che bellezza! Buonasera ragazzi, buonasera! Oggi si gode, non solo per questo frescolino che mi arriva addosso e mi sta praticamente inondando, ma soprattutto per il rinnovo di Vincenzo Italiano. Sarà con noi almeno fino al 2024. C'è da dire che non è stata inserita la clausola. Aspetta, vengo più qua perché è bellissimo! Guardala! Che goduria! Meno male c'è la siccità! Io vengo qui a combattere la siccità di questo periodo. Va bene, dicevo, non è stata inserita la clausola recissoria che se non sbaglio fino adesso era di 10 milioni, quindi chiaro, senza voler trovare subito il pelo nell'uovo, sono tutto fradicio, senza voler trovare subito il pelo nell'uovo, chiaramente il prossimo anno se dovesse andar bene c'è la possibilità, c'è questo spettro che possa essere preso senza clausola, però ragazzi chi se ne frega! Vincenzo Italiano ha rinnovato siamo contenti, bene perché è un progetto che va avanti. Io non ho mai messo in dubbio tra l'altro il fatto che potesse rinnovare, un po' perché lo dico in maniera un po' brutale, però prendetela un po' con le pinze, ma dove voleva andare? Nel senso che ha ancora bisogno di maturare calcisticamente come allenatore, ancora bisogno di prendere e far bene, soprattutto anche in Europa che gli manca anche da giocatore, le panchine più grosse in Italia erano tutte prese, quindi o andava all'estero e rischiava di non compiersi, oppure andava in una squadra di medio-bassa classifica e non faceva neanche l'Europa e a quel punto ripartia da capo. Quindi secondo me, io non ho mai messo in discussione questa trattativa perché secondo me sono state ingigantite fortemente le cose. C'era ovviamente, come in tutte le trattative lavorative e professionali, c'era una piccola incomprensione, divergenza, chiamata la mevi pare, tra domanda e offerta e tra l'entourage del giocatore e dell'allenatore, l'allenatore, il procuratore e la società, poi si sono trovati, ma era normale. Tutte e due volevano continuare questo progetto e sono contento, come dicevo, che possa continuare. Tra l'altro quest'anno secondo me sarà il vero primo anno dove Vincenzo Italiano entrerà fortemente, questo l'ha un po' anche fatto capire Gio Barone, nelle trattative di calciomercato che comunque, l'ha evidenziato anche oggi, non saranno stratosferiche, bisognerà puntare comunque a trovare qualche occasione e pagarla quanto più possibile. Chi poi si aspettava dei fantamilioni purtroppo rimarrà deluso, però non sarà così, anche in una trattativa come quella di Jovic, che comunque secondo me sarebbe una bellissima trattativa e porterebbe un giocatore che ha fame, un giocatore anche di fama internazionale a Firenze e farebbe un po' contento tutti, però dovremmo trovare una quadra. La quadra del prestito potrà dare un pochino noia ai tifosi perché dovesse far bene, non è tuo sto giocatore? Sì, però te adesso secondo me hai bisogno di pensare anche al presente. Al futuro è bene sempre pensarci, se no non rinnovavi neanche italiano, però ragazzi bisogna anche riuscire a far quadrare tutto e in questo momento la Fiorentina è questo. Che ci piaccia o meno la Fiorentina in questo momento è questo. Se poi dovesse arrivare e tornare anche a Driosola sarei contento, così come sarei ancora più contento dovesse arrivare un colpo come Dodò. Ecco su Mandragora, che non è Mandragola, che è la commedia di Machiavelli, per darvi anche questa chicca culturale, però su Mandragora sono un po' diviso. Perché? Allora è un giocatore che tra l'altro io apprezzo già dai tempi dell'Udinese, dico la verità. Però bisogna ripensarlo secondo me in ottica diversa, cioè è chiaro se lo paragoni a Torreira, non ti può piacere Mandragora, dici ma scusami ma ci serve a Torreira. Però se te la pensi in quest'altra ottica come un giocatore comunque molto duttile, spendibile in più parti del gioco, perché sì è vero è un mediano, forse viene a fare un play, ma non è così così tirata di fuori il fatto che potrebbe alternarsi anche con una mezzala, potenzialmente, o ancora meglio, secondo me potrebbe essere un buon colpo se italiano, e queste su alcune piccole indiscrezioni farrebbe che si vada proprio in questa direzione se italiano decidesse di cambiare modulo. Quindi uscire da questo maledetto e benedetto allo stesso tempo 433, dico maledetto e benedetto perché, maledetto perché non siamo mai usciti neanche in momenti di emergenza da questo modulo, benedetto perché effettivamente ci ha fatto anche godere quest'anno nel suo piccolo. Quindi se dovesse uscire da questo 433, ecco che Mandragola allora potrebbe essere un acquisto buono, molto buono, molto molto buono, perché comunque è giovane, è un giocatore che l'anno scorso ha fatto 21 presenze, si è fatto male, quindi non è stato troppo costante a livello di integrità fisica, quello potrebbe essere l'unico punto interrogativo, però è un giocatore nel giro della nazionale, se ne parla un gran bene, è comunque di proprietà della Juve, quindi la Juve non è così pronta, non è stata mai così pronta a privarsene, ha una bella esperienza in Serie A, ha già militato in Genoa, nell'Udinese, nel Torino, mi dicono i miei amici Granata che nel Torino ha fatto anche bene quando ha giocato, quindi che dire, io sarei anche favorevole, perché comunque è un giocatore che apprezzo, certo avrei sicuramente pensato ad altro sostituendo Torreira, ma se si va in un'ottica di non sostituzione di Torreira, ma un ripensamento del gioco, potrebbe essere un buon acquisto. Detto questo ragazzi, stasera alle ore 22 sono in live con Leonardo Fabri su Twitch, vi lascio il link qua in descrizione, mi raccomando seguitemi anche lì perché ho bisogno del vostro sostegno, ma soprattutto ho bisogno di parlare con voi approfondire temi che vanno, si dilungano anche oltre a questi 7-8 minuti di YouTube, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e lasciate soprattutto un mi garba, se avete grabato il video. Io voglio riprendere l'acqua perché ho da fare la doccia. Ciao, forza Viola!